Lo stipendio da operai evidentemente non bastava e così avevano pensato bene di creare in casa un piccolo market della droga. Si tratta di una coppia di fidanzati, un uomo e una donna valdarnesi incensurati finiti in manette. Il tutto era partito da un normale controllo su strada e due fermati dai carabinieri di Levane avevano subito mostrato evidenti segni di nervosismo. I militari hanno così deciso di perquisire l'automobile di proprietà dell'uomo dove sono saltati fuori 3 grammi di cocaina e 2 di marijuana. Entrambi avevano la disponibilità di due appartamenti che sono stati perquisiti. Nell'auto della donna parcheggiata sotto casa sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina e nell'abitazione sempre della donna i militari hanno ritrovato altri 40 grammi di cocaina confezionata in dosi pronte per la vendita. 13 grammi di marijuana, 15 di hashish, un bilancino di precisione e 1700 euro chiaro provento di spaccio. Per entrambi sono scattate le manette in fragranza di reato, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.